Recuperare i riti del passato per promuovere lo sviluppo futuro del territorio. Con questo intento il gruppo Pesco Pagano Eventi ha riproposto per il secondo anno consecutivo il rito della passata, una cerimonia arcaica che si svolge in occasione della festa della Santissima Annunziata e che quest'anno ha visto protagonisti due bambini. Il rito ha origine diciamo agraria, quindi risale alla notte dei tempi, come si suol dire, già ne parlavano i romani. Lo scopo era quello di passare i bambini sotto questo arco di rovo e garantire a lui un futuro migliore per quanto riguarda la fecondazione e contro l'erna infantile, che all'epoca era un problema per una famiglia avere un bimbo e meno braccia per il futuro. Un vero e proprio rituale suddiviso in più fasi. Dapprima gli uomini individuati come i compari del bambino che sarà sottoposto al rito scelgono nel parco della rimembranza, a location della passata, un lungo ramo di rovo che viene lavorato fino ad assumere la forma di un arco. A due amici dei genitori ha assegnato il compito di mantenere divaricata l'apertura del ramo e uno dei compari, ricevuto il bambino nudo dalle mani della madre, lo inserisce nell'apertura. L'altro compare, che si trova dall'altra parte dell'apertura, riceve il fanciullo e gli fa compiere un semicerchio al di sopra dell'arco e lo riconsegna all'altro uomo ripetendo l'operazione per tre volte in senso anteorario. terminata la passata, il piccolo viene portato in chiesa per essere rivestito.